Ciao a tutti, benvenuti nel video del giovedì. Questa settimana parliamo di Urva Padmasana, posizione del loto ribaltata. Urva vuol dire verso l'alto, Padma è il loto. È un ribaltamento della posizione del loto per cui la preparazione delle gambe, delle anche per evitare di fare torsioni alle ginocchia o inversione alla caviglia, necessita appunto di uno studio, di una preparazione e a tale proposito Silvia farà nelle prossime settimane degli approfondimenti e delle preparazioni mirate per raggiungere la posizione del loto con le varie caratteristiche fisiche che ognuno può presentare. Per cui non mi dilungo su questo aspetto, passiamo proprio direttamente allo svolgimento dell'azione di Urva Padmasana. Oltre a preparare le gambe è necessario anche preparare e riscaldare la catena posteriore, quindi la muscolatura dal collo fino ai talloni o comunque quantomeno il tratto, dal tratto rischio crurale al tratto cervicale. Questo quindi possiamo farlo facendo Pashimottanasana, Pashimottanasana o tutte le posizioni che appunto ci preparano in questo senso. E conviene iniziare a riscaldare la muscolatura cervicale e a prepararsi a sostenere il peso del corpo sulle spalle e sul collo, così come facciamo normalmente quando facciamo Salama Sarvangasana, posizione della candela, che possiamo fare proprio anche in preparazione di questo. Ora, quando facciamo Sarvangasana abbiamo bisogno di darci questo primo spunto iniziale, sollevare i glutei, poi spingere le gambe in quella direzione, in avanti, e vi consiglio di tenere le mani chiuse con i pollici chiusi, perché se teniamo i pollici al lato del corpo tendiamo sempre a spingere un po' avanti il peso in questo modo e lavoriamo un po' con il quadrato dei lombi, mentre invece se teniamo le mani chiuse e le dita unite abbiamo bisogno di usare tutta la muscolatura lombare per raddrizzare il corpo in questa posizione e questo ci servirà dopo perché poi a un certo punto non abbiamo più il sostegno delle mani, per cui vi suggerisco prima di fare Urva Padmasana di provare a staccare le mani dalla schiena e vedere se riusciamo a bilanciarci o cadiamo in quella direzione, dopodiché provare già a fare questo, a incrociare le gambe e a mettere una sola mano sul ginocchio oppure provare a tenere tutte e due e vedere se riusciamo a bilanciarci a quelle braccia o rischiamo di cadere indietro o in avanti. Possiamo poi proseguire con Alasana, quindi continuare a allungare la muscolatura cervicale, andare indietro bene con le gambe cercando di spostare il peso nella direzione della colla e della testa e poi stendere le braccia a terra in modo da allungare ancora di più il tratto cervicale e i muscoli delle spalle. Rimaniamo così per qualche istante, per qualche respiro. Possiamo anche rimanerci per 1-2 minuti volendo, se sentiamo che piano piano riusciamo ad appiettirci di più. Dopodiché faremo l'azione del loto, quindi usando tutte le precauzioni del caso e tutta la preparazione che poi vedrete con i video dedicati al loto, possiamo prendere il loto usando, meglio se più usare la muscolatura delle gambe e poi eventualmente aiutarci con le mani solo per chiudere bene la posizione. vedete mi sto tenendo comunque con una mano dietro la schiena e poi usiamo prima una e poi l'altra mano, le appoggiamo sulle ginocchia. Potremmo anche tenere le mani dietro la schiena oppure tenere una sola mano sulle ginocchia per iniziare ad abituarci e piano piano staccare anche l'altra. Ora in questa posizione ho distribuito i pesi, il peso sta sulle spalle e sul collo e ci permette appunto di bilanciarci. Le gambe premono un pochettino verso le mani e le braccia spingono in alto. Questo permette al sacro di aprirsi, fa un'azione particolare, una specie di compensazione del lavoro di flessioni e di inarcamenti che riporta in pari, in equilibrio la posizione del sacro. È difficile da mostrarlo perché è più che altro una sensazione che si ha all'interno. Però se noi tenessimo le gambe sollevate da sole in questo modo non la sentiremmo questa azione. Quindi le braccia spingono le gambe verso l'alto ma le gambe lasciano andare il loro peso sulle mani e con questo coccice spinge un po' verso l'alto, si alza leggermente e il sacro si apre, si raddrizza. In questa posizione naturalmente siamo stimolati a fare già l'andara barda, che adesso sto impedendo perché altrimenti non riuscirei a parlare, però possiamo schiacciare bene il mento contro lo sterno e chiudere e fare già l'andara barda. E cerchiamo di tenere fermo l'ombelico e di respirare solo con il torace. Poi per uscire dalla posizione possiamo srotolare la schiena a terra e mantenere la posizione del loto invariata, oppure sciogliere la posizione del loto quando siamo in questa posizione, quindi raddrizzare di nuovo le gambe, sciogliere la posizione del loto e scendere poi di nuovo a terra. La particolarità del loto eseguito in questa versione è che non c'è la pressione che normalmente abbiamo del pavimento sugli ischi e sulla testa del femore, per cui questa pressione che un pochettino già impedisce l'apertura, la rotazione estera del femore e che contrae già i muscoli che in parte servono per questo, manca, viene a mancare, per cui questo ci permette di avere un range maggiore di movimento e di apertura delle gambe, per cui fatta eccezione per il problema di essere ribaltati, testa in giù, equilibrio sul collo, la posizione dovrebbe essere più semplice da prendere, o almeno per quanto riguarda le articolazioni delle arti inferiori è più semplice da prendere. Un buon lavoro di preparazione già ad hoc per questo, se ci mettiamo di fronte a una parete e flettiamo una gamba, possiamo provare solo con l'altra perché se no si vede poco, a tenere un piede contro il muro e cercare di abbassare in questo modo il ginocchio. Vedete questa è una cosa, un'azione che normalmente se siamo seduti completamente a terra non possiamo fare perché a questo livello sarei già per terra, sarei già contro il pavimento, mentre invece questa azione può essere fatta in modo molto più ampio e ci prepara a quando facciamo il loto in posizione ribaltata, invertita. Potete anche provare a fare il loto senza usare le mani, per fare questo è indispensabile chiudere bene la prima gamba, portare bene la gamba in questa posizione, perché se la gamba è, se il piede sta vicino al ginocchio poi l'altra gamba non riesce a chiudersi, allora è importante che la prima gamba, il primo piede venga incastrato bene nella fosse viaca, allora il secondo può andare a chiudere la posizione del loto, perché a questo punto il ginocchio può aprirsi, cioè può scendere, l'anca può aprirsi senza fare leva sul ginocchio. Se invece facciamo questa azione e abbiamo il piede lontano dalla fosse viaca, in questa posizione sentiamo leva, il ginocchio deve essere bene serrato in questo modo, allora possiamo aprire bene l'anca e chiudere la posizione con l'altra gamba. Ricordatevi di provare a fare un po' di prove con le due mani dietro alla zona lombare, tenere magari una mano alla volta, con una mano alla volta al ginocchio magari iniziare a staccare l'altra e poi piano piano prendere la posizione di equilibrio sulle spalle e sul collo. Non è solo sul collo, abbiamo bisogno anche proprio del sostegno delle spalle, perché le spalle scaricano una parte importante del peso. Simbolicamente il loto è una posizione in cui la radice che cresce nel fango melmoso, nel torbido, genera un fiore che cerca da subito la luce e cerca di affiorare e poi sboccia fuori dall'acqua come un fiore limpido, meraviglioso, che ha le proprie radici nel marciume, nel fango melmoso. In questo caso il ribaltamento di questo comporta proprio anche il ribaltamento del suo significato, in qualche modo andiamo più a pescare nelle profondità, negli abissi e questa è una posizione che effettivamente richiama e stimola l'introsprezione e la ricerca nella propria interiorità. È una posizione che nella pratica della stanga vinyasa viene fatta nella chiusura, alla fine, quando quella parte della pratica che è dedicata proprio all'interiorizzare, riprendere tutto il materiale che è stato esploso, è stato aperto durante qualunque sia la serie che si fa e poi viene ricompattato, richiuso e si ritorna verso il nucleo, verso l'interiorità e l'ascolto profondo nella fase di chiusura. E può essere una posizione abbinata a pratiche sia intense che meditative, sempre appunto con questo scopo, quello di riportare il praticante verso l'interiorità e verso il pratyahara, il ritiro dei sensi dall'esterno verso l'interiorità. Per il momento è tutto, vi ricordo appunto, questo, urva palmasana, viene prima di una... su questo video, fa una specie di anteprima rispetto a un lavoro che invece poi verrà sviscerato e analizzato da Silvia nelle prossime settimane sulla preparazione proprio per fare il palmasano. Questo è tutto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e buona pratica. Ciao!